Bentornati sul canale di Giovanni Volpi. La nona puntata del minicorso dedicato ai principianti assoluti del presepio artistico tratterà un argomento che, a dire il vero, non è proprio esattamente da principianti assoluti perché aggiunge una nota di realismo più avanzato e quindi se voi siete principianti e vi volete cimentare con questa tecnica vi assicuro che il vostro presepio farà un salto di qualità importante. Parliamo infatti di uno strumento che si può definire facoltativo perché è quello del riempimento delle fughe tra i mattoni. Infatti se voi guardate le fotografie oppure se vi recate personalmente alle mostre dei presepi artistici di un certo livello noterete che anche quando creano i maestri delle strutture di architettura rurale, dunque anche dei casolari, dei fabbricati del nostro stile italiano, non sempre vanno ad applicare anche la malta di riempimento tra un mattone e l'altro perché il colore di fondo, quindi il nero, il grigio scuro insomma che abbiamo applicato può essere già sufficiente per il realismo finale e in effetti giudicherete voi stessi con l'occhio come percepite il muro e in effetti può andare già molto bene così com'è lasciato con la fuga non riempita. In particolare potrebbe essere difficile applicare, per non dire impossibile, applicare la malta quando il muro non è realizzato intagliando i mattoni come abbiamo fatto, ma addirittura componendolo mattone per mattone. C'è anche questa tecnica, quindi partendo dal pannello di polistirene voi vi ritagliate i mattoni uno per uno così riuscite già nel ritaglio a dare una certa irregolarità alla pietra, non solo nel contorno ma anche nella superficie, e poi l'applicate così avete quell'effetto molto carino molto simpatico di mattoni in rilievo con sporgenze differenti quindi molto disallineati che soprattutto se l'illuminazione incide la scena nel modo giusto sono fantastici perché vi danno proprio l'idea di una una muratura molto molto grezza molto rudimentale che si abbina perfettamente all'atmosfera di povera umile semplicità in cui deve essere per forza ambientata la scena della natività. E allora nel fare questo tipo di operazione i mattoni si rischia veramente di accostarli proprio tanto, molto molto vicini, e così il riempimento potrebbe essere effettivamente superfluo e anzi proprio solo quella leggerissima nota di nero tra un mattone e l'altro potrebbe bastare e avanzare proprio per dare la resa finale. Però potete sempre sperimentare, in ogni caso non fate un danno, ecco questo ve lo dico perché l'applicazione della malta anzi come come vedremo nelle fasi finali del processo aggiunge comunque realismo alla scena perché tende sempre a lasciare una patina di residuo almeno riferendoci alla tecnica che vi mostro io, lascia sempre una leggera patina di residuo sulla superficie che schiarisce, che dà quell'effetto di pietra che potrebbe essere addirittura un valore aggiunto come quel colore in più che cercavate, che non riuscivate a mettere, a rendere con i vari colori che miscelavate a secco sulla superficie, ebbene ecco la malta così miracolosamente vi ha dato la superficie che volevate. Altrimenti il riempimento delle fughe si può fare anche con dei semplici materiali commerciali, per esempio il classico fugante, il riempitivo per esempio per la posa delle mattonelle, quindi vi sono dei preparati già pronti che trovate nei reparti di edilizia, dei negozi di fai da te, oppure proprio nei centri specializzati per costruzioni, e con quelli come riempite le fughe nella realtà così lo potete fare anche nel modellismo e tanto basti. Però con la tecnica che vi voglio mostrare io utilizziamo appunto una malta da edilizia, andiamo ad applicarla proprio sulle fughe in un modo abbastanza veloce, quindi semplicemente con un pennellino cercando di distribuirla e di livellarla, dopodiché andremo a inumidirla con o con acqua semplice, oppure come ho preferito fare io, acqua sempre miscelata con un po' di cola vinilica per dare una maggior consistenza all'impasto, anche perché non si sa mai, insomma può anche capitare che maneggiando il modulo, maneggiando i pezzi, un po' qualcosa si stacchi, ecco tendano a perdere un po' della malta che avete applicato, soprattutto magari se siete riusciti a metterla come ho fatto io in alcuni punti, per esempio la parte interna dell'arcata, che essendo sospesa dunque la malta è affacciata verso il terreno, perciò deve rimanere ben aggrappata all'interno della fuga, ecco allora in quei casi è ovvio che se sbatto con un po' di forza il modulo sul tavolo può sbriciolarsi un pochino di questa amalgama che ho messo e allora se si aggiunge un goccio di cola vinilica, ma veramente un goccio, ovviamente l'impasto sarà un pochino più denso. E allora questa sarà un'applicazione in cui la malta si formerà proprio direttamente sul posto, noi applicheremo la polvere asciutta, la polvere semplice, dopodiché quando andremo a inumidirla sarà lì che si formerà l'impasto in modo quasi istantaneo, in realtà il tempo reale di asciugatura sarà piuttosto lungo, ma ovviamente un processo che può durare anche più di un giorno, però diciamo che già nei primi dieci minuti di applicazione il materiale dentro la fuga, soprattutto se la fuga è anche abbastanza stretta, quindi molto contenitiva, se ha una certa profondità, quindi riuscite a far penetrar bene il materiale e poi quando lo innaffiate l'acqua va, la miscela di acqua e cola vinilica va a impregnarlo fino in fondo, allora state tranquilli che già nei primi minuti quella malta è stabile e così vi potrete già permettere di muovere il pezzo per mettere la malta in altre situazioni, perché per esempio io qua ho cercato di fare le operazioni una volta sola e vedete che siccome il modulo è tutto incollato abbiamo muri disposti secondo varie angolazioni, così ho dovuto metterlo da una parte, poi l'ho sdraiato dall'altra, poi l'ho dovuto ribaltare addirittura, ma dopo ogni applicazione se aspettate appena qualche minuto già la malta è sufficientemente stabilizzata da non staccarsi, da non scendere, anzi forse proprio perché è inumidita questo passaggio le permette proprio di questo stato, le permette proprio di rimanere ben ferma dentro al solco, in ogni caso voi muovete con cautela il modulo senza sbatterlo, senza fare manovre affrettate e vedrete che rimarrà tutto fermo, dopodiché vi toccherà sicuramente attendere una giornata prima che tutta la malta che avete applicato sia completamente asciutta e così vedrete il risultato e potreste avere delle sorprese come mostreremo nella parte finale di questa puntata, perché come dicevo appunto se siete riusciti durante il processo a pulire perfettamente il mattone e quindi a fare in modo che la malta riempitiva sia solo dentro le fughe, allora voi avrete il mattone esattamente come l'avete colorato, ma nella stragrande maggioranza dei casi un leggerissimo residuo di malta sarà rimasto sulla superficie del mattone, anche perché questo genere di polveri è talmente fine che è quasi impossibile da rimuovere al 100%, qualcosa rimane sempre e così quando voi poi andrete a inumidire, perché l'acqua vedrete come l'applicheremo, cioè non staremo a essere tanto pignoli, ma spruzzeremo proprio, nebulizzeremo l'acqua sulla superficie e dunque andremo a bagnare proprio tutto, bene questa acqua chiaramente favorirà la pulizia dei mattoni, perciò quel pennello sarà facile, oppure tamponando anche con carta assorbente andremo ad asciugare le superfici e quindi rimuovendo la malta residua, però qualcosa resterà sempre e così sorpresa, quando il muro sarà finalmente asciutto potrete vedere delle schiarite anche sorprendenti, alcune esagerate, per esempio potrebbe anche accadere che i mattoni siano stati completamente sbiancati dalla malta e in quel caso toccherà riprenderli, ma parleremo anche di questo argomento. Nel caso invece in cui la schiarita sia appena accennata, anzi con quella leggera nota di grezzo che è rimasta dalla lavorazione, magari voi guardate i mattoni come rendono e vi piacciono, notate, sarete compiaciuti da questo valore aggiunto che sarà stato dato proprio dalla malta, anche perché come ho già detto altre volte in questi particolari passaggi di lavorazione noi stiamo di fatto utilizzando dei materiali che si usano in edilizia e dunque è chiaro che l'effetto finale sarà quello di una edilizia in miniatura, perciò andremo molto a favore del realismo. A questo punto detta questa presentazione non serve altro che metterci al lavoro, riempiamo dunque le fughe tra i vari mattoni e così avremo un effetto riempitivo che cambierà completamente la percezione di tutte le superfici, dei loro colori e del realismo complessivo della scena. Buon lavoro a tutti quanti, seguitemi e a più tardi! Prima di tutto, per evitare colate di materiale dalle sedi delle travi superiori, applico sul retro dei coperchi in polistirene che oltre a sigillare rinforzano l'incollaggio degli elementi. Cominciamo le operazioni versando all'interno del serbatoio di un nebulizzatore una piccola quantità di cola vinilica e poi andremo a versare acqua riempiendo il serbatoio per circa un terzo o metà. Non è importante che le proporzioni fra i due ingredienti siano così tassative, quello che conta a mio parere è avere non solo dell'acqua ma un po' di cola vinilica che renderà ancora più efficiente e solido e duraturo il lavoro finito. Mescolare con molta cura agitando il serbatoio anche capovolgendolo perché la cola vinilica è parecchio pesante e quindi tende a depositarsi sul fondo perciò bisogna amalgamarla con estrema cura. Alla fine della miscela possiamo finalmente procedere con malta da edilizia. Questa è proprio pura malta che viene usata nei cantieri e con il cucchiaino andiamo a distribuirla tra le fughe del muretto. Già come ho commentato durante la lavorazione con cui abbiamo illustrato l'incisione di queste pietre le fughe sono state lasciate volutamente molto ampie e grossolane proprio perché questo non deve sembrare un muretto di mattoni ma realizzato quasi con delle pietre accatastate ecco come se fosse un manufatto un po' di fortuna e dunque è assolutamente indispensabile che andiamo a riempire le fughe con la malta proprio perché altrimenti il nero che le riempie sarebbe un po' troppo grossolano cioè sarebbe come si dice un po' un pugno in un occhio. Andiamo a distribuire dunque la malta con cura cercando di depositarla seguendo accuratamente il percorso delle fughe ma ora ho appoggiato un foglio di carta al di sotto del muretto proprio perché sarà indispensabile raccogliere tutta quella malta che non viene utilizzata e così sarà utile reintrodurla nel sacchetto per utilizzarla così per future lavorazioni. Cerchiamo in pratica di limitare il più possibile costi e sprechi di materiale. Sto utilizzando ora un pennellino consumato quindi le setole sono più corte abbastanza rigide e si presta perfettamente per accompagnare la malta all'interno delle fughe in modo da distribuirla livellandola il più possibile. Notate che la malta è formata da pietrisco un po' grossolano ma anche da un pulviscolo molto molto fine praticamente una polvere quasi impalpabile che si deposita nelle ruvidità e nelle porosità del materiale e dunque è molto molto difficile da rimuovere anche con l'acqua. È un argomento di cui parleremo fra poco. Accompagnando col pennello la malta in modo che riempia tutte le fessure vedete che comincio già ad accompagnare fuori dal muretto la malta in eccesso e comincia a caderne una certa quantità sul foglio perciò notate quanto materiale andremo a recuperare perciò è veramente indispensabile questo accorgimento con il quale noi limitiamo gli sprechi. Operazione da eseguire sempre con pazienza cerchiamo di spingere il materiale il più possibile all'interno delle fughe e quello che avanza lo facciamo cadere fuori. Vedete come i mattoni inizino a schiarire un po' proprio perché il pulviscolo fine rimane intrappolato magari spazzolando col pennello in modo ripetuto e anche energico si riesce a pulire quasi completamente però è parecchio ostinata questa polverina da rimuovere ed è inevitabile che qualche residuo resterà sempre anche a fine lavorazione. Continuiamo ad accompagnarla fuori e intanto il pulviscolo in eccesso cade sulla carta che abbiamo messo come supporto e davvero il quantitativo di materiale recuperato inizia ad essere veramente importante. Vediamo anche come nonostante tutto continui ad affiorare il nero residuo di riempimento delle fughe ma sarà un problema facilmente risolvibile non preoccupatevi noi andiamo avanti con la lavorazione e aggiungendo un po' di materiale perché ogni tanto il pennello è un po' violento nello spostare la malta ed ora entra in gioco finalmente la soluzione che abbiamo preparato mantenendo lo spruzzino a una certa distanza insomma non inferiore direi ai 10 centimetri ma stiamo anche più lontani anche 20 anche 30 centimetri in modo da nebulizzare la nostra soluzione in modo fine sulla superficie andiamo a impregnare proprio completamente in modo omogeneo il muretto e col pennello accompagniamo fuori la malta che un po' per effetto dello spruzzo e un po' anche come residuo della lavorazione precedente è rimasta a sporcare i mattoni. Quando sarà asciutta infatti tutta questa malta soprattutto quella più fine diventerà una colorazione molto chiara quindi i muri potranno apparire parecchio sbiaditi se ci sarà un certo residuo di questa malta fine. Notate che praticamente non ho atteso neanche un minuto per ruotare il muretto infatti quando la malta è ben miscelata ancora di acqua può essere anche soltanto acqua è quella che spruzzate però io dico che se aggiungiamo la colla vinilica è meglio per avere una lavorazione ancora più solida ebbene quando è ancora molto umida è perfettamente spalmata all'interno della fuga delle tutte le varie fughe perciò se voi muovete il pezzo con cautela ovviamente senza sbatterlo potete anche riuscire quasi a capovolgerlo senza che la malta cada quindi se fosse necessario fare anche dei movimenti un po' azzardati per le lavorazioni successive voi potete tranquillamente farlo finché la malta è molto umida. Naturalmente usate cautela perché è ovvio che è bene non fidarsi ecco più di tanto però nel nostro caso qui dove le fughe sono molto molto profonde le abbiamo caricate parecchio di malta impastata e così siamo stati tranquilli che non ne cadrà neanche una piccolissima percentuale possiamo muovere il muretto trattando così tutte le sue facce e così anche nella seconda faccia ripetiamo la lavorazione spruzzando poi il nostro preparato per amalgamare bene la malta e poi col pennello ancora il trattamento noi cerchiamo di pulire il più possibile le superfici però in questo caso vedete quanto grigio si intraveda i mattoni infatti non sono assolutamente trasparenti proprio perché vi è ancora un certo residuo della malta all'interno e vedete che il pennello per quanto lavori non riesce a pulirla più di tanto non riesce a eliminarla perciò questi mattoni inevitabilmente appariranno molto più chiari alla fine della lavorazione in alcuni casi proprio questa sfumatura chiara assieme alla leggerissima patina ruvida lasciata dalla malta potrà essere anche un fattore che valorizzerà ulteriormente il realismo delle pietre ci tengo a far vedere l'intero processo di lavorazione di questo muretto proprio perché dobbiamo applicare la malta su facce adiacenti quindi è come se stessimo rivestendo un cubo per cui ragioniamo nelle tre dimensioni ecco vedendo dunque come l'applicazione della malta debba avvenire accuratamente anche nelle zone di congiunzione tra le fughe dove tende a scappare il materiale cioè quando col pennello lo accompagniamo per livellarlo potrebbe infatti caderne una buona quantità e allora bisogna lavorare con un po di cura e di pazienza in modo che il filo della malta riempia perfettamente la fuga nel suo percorso tutto intorno al muretto e vediamo infatti qui dopo un po di tempo quando l'asciugatura inizia ad avanzare come siano rimasti dei residui chiari sulla superficie e dunque questi mattoni hanno perso un po ecco dell'effetto cromatico che avevamo ricercato e quindi il colore che abbiamo applicato è diventato più che altro un fondo che sarà comunque prezioso per l'effetto finale stiamo ormai arrivando alla fine di questa nostra prima lavorazione e siamo nella fase in cui applichiamo la malta nella zona un po più movimentata e un po più complicata del muretto però anche quella che forse potrà dare più soddisfazione peccato che sarà anche la faccia un po più nascosta dal pubblico ecco una faccia che non sarà tanto intravista quando il presepio sarà osservato e dunque la si potrà al limite fotografare durante le fasi di montaggio ma niente di più comunque è sempre un utile esercizio ecco qui ruoto con con molta cura il muretto perché non mi fido della aderenza della malta ed ora ripetiamo l'operazione insomma in questo filmato rivedremo le cose semplicemente applicate su varie superfici quindi in contesti differenti ma il criterio che seguiremo sarà sempre lo stesso vedremo dunque delle delle fasi magari anche un po più accurate altre fasi in cui i mattoni saranno meno sporcati e così via ecco comunque arriveremo al risultato con la qualità desiderata non preoccupatevi qui mi aiuto a pulire la superficie con un pennello più grande leggermente inumidito la bontà di questa operazione è che il pennello contribuisce a livellare ulteriormente la malta non ne porta via una quantità particolare quindi non rovina il riempimento che abbiamo appena fatto ed ora la la soluzione spruzzata e ha coperto completamente in modo omogeneo infine col pennello cerchiamo di pulire il più possibile anche se questo muretto resterà abbastanza schiarito nella nella sua impressione finale e comunque sarà un argomento di cui ragioneremo in conclusione qui ci spostiamo ora sulla parete sinistra nella parte superiore in cui dobbiamo riempire la fuga rimasta inevitabilmente quando abbiamo inserito le travi a sbalzo che sporgeranno e saranno un particolare che sicuramente darà un maggior preziosismo alla parete darà un senso cioè di accuratezza di maggior realismo nella riproduzione della realtà anche in questo caso ci aiutiamo col pennello per accompagnare la malta in modo da riempire accuratamente la fuga e poi inevitabilmente qualcosa resterà al di fuori e lo accompagneremo in uscita quindi teniamo il sacchetto al di fuori del nostro diorama che abbiamo appoggiato in modo da avere la parete laterale orizzontale così sarà anche il peso stesso della malta ad aiutarci nella distribuzione altrimenti tenendo il muro in verticale sarebbe un'impresa disperata ora le fughe di tutte e cinque le travi sono state riempite e se un pochino di malta è rimasta intorno certamente andrà soltanto a valorizzare il realismo del muro qui ho un flacone di colla vinilica in cui metà è pieno della colla e il restante volume di acqua e allora la miscela di acqua e colla vinilica al 50 per cento qui viene applicata proprio direttamente col beccuccio come vedete un'operazione un pochino scomoda che potrebbe essere effettuata per esempio con una siringa preferibilmente privata del lago o anche con lago volendo in modo da arrivare proprio a raggiungere il punto in cui si vuole inserire il materiale qui aiutandoci col pennello distribuiamo al meglio la nostra soluzione accompagnandola un pochino e così trasciniamo anche quelle piccole pietruzze che sono si sono spostate sono si sono allontanate dalle dalle travi e alla fine dell'operazione tamponiamo quello che è colato in eccesso con uno straccetto anche perché la colla vinilica tende a lasciare sempre una leggera patina lucida in questo caso sarebbe quasi invisibile proprio per per via dei pori molto profondi molto grossolani della parete però per stare sul sicuro tamponiamo in modo da asciugare il più possibile ora ci spostiamo sui mattoni d'angolo del nostro diorama quelli che sono proprio in primo piano sulla sinistra rispetto all'osservatore e l'operazione rimane sempre la stessa qua cerchiamo di essere ancora più accurati vediamo come proprio nell'angolo la fuga all'interno sia stata leggermente arrotondata dal passaggio del dell'incisione e poi della della carteggiatura con cui abbiamo pulito i solchi per renderli meglio pitturabili e poi trattabili con questo procedimento e così allora è facile che molta di questa malta cada di sotto e dunque il riempimento dell'angolo è un passaggio abbastanza accurato da fare con pazienza e muovendo il pennello in modo veramente dolce senza senza metterci della velocità sempre con il nostro foglio di carta sotto vediamo quanta malta riusciamo a recuperare e ne recuperiamo ancora un po con il grande pennello che accompagna il materiale residuo quello che ancora è in eccesso aiutandoci nel livellare la malta all'interno delle fughe ripassiamo più volte fino al raggiungimento del risultato desiderato e così avremo ancora un altro po di materiale da recuperare senza sprechi qui abbiamo già fatto lo spruzzo della miscela di acqua e cola vinilica e qui la nebulizzazione è andata bene diciamo che abbiamo lasciato meno residui di sporco sul materiale vedremo che alla fine i mattoni avranno un effetto molto molto migliore che non dovrà essere ripreso con ulteriore pulizia o addirittura correzione del colore ora stiamo trattando la parte in cui la parete del corrimano diciamo del parapetto della scala incontra l'arcata che si affaccia sul paesaggio retrostante la scenografia e anche qui sarà importantissimo valorizzare il muro scrostato proprio riempiendo le varie fughe qui naturalmente l'operazione è un po più facile perché non si corre il rischio che il materiale cada di fuori naturalmente anche qui però andrà recuperato e non poco ecco perché quando voi passate col cucchiaio per quanto possiate essere precisi sicuramente un po di eccesso di materiale andrà sempre a depositarsi anche perché poi ancora non avrete la distribuzione omogenea della malta tra le fughe per cui sarà importantissimo poi in seguito col passaggio del pennello rimuovere tutto l'eccesso che andrete a spostare ed ecco allora che qua mi aiuto direttamente col pennello più grande spazzolando la regione scrostata del muro e guardate infatti quanto materiale vado a riprendere vado ad accompagnare verso il sacchetto ma d'altronde questa operazione non fa che giovare al realismo finale della parete perché tutto il pulviscolo che rimarrà depositato potrà essere poi ulteriormente spruzzato con con acqua proprio perché si fissi meglio nel nel muro risaltando ulteriormente quindi valorizzando proprio l'effetto dell'intonaco che abbiamo realizzato dunque assolutamente tutto serve al completamento del realismo finale alla fine andiamo a spruzzare la superficie e intanto che inizia ad asciugarsi in quella zona ci spostiamo tutte le operazioni che vedete qui sono state eseguite in un unico tempo in un'unica fase senza attendere alcun tempo di asciugatura andiamo allora a riempire altre zone qui siamo accanto alla arcata centrale della nostra scenografia cerchiamo di essere precisi qua siamo veramente sul ciglio dell'arcata cercando di riempire anche qui le fughe con la massima cura possibile ovviamente e poi naturalmente andremo anche qui a recuperare molto materiale avanzato come vedete è una fase che richiede sicuramente una mano precisa ma non più di tanto eppure avrà un potenziale incredibile ma veramente potente nel migliorare il realismo della scena e quindi vedete come uno strumento di lavoro assolutamente adatto ai principianti farà compiere un enorme salto di qualità al vostro lavoro andiamo avanti ci spostiamo in un'altra zona c'è un altro punto del muro in cui l'intonaco si è staccato mostrando i mattoni sottostanti qui siamo nella parte alta dove sarà sicuramente più facile andare a recuperare il materiale in eccesso e intanto che eseguite queste operazioni guardate da vicino la resa del lavoro che avete fatto quindi vedete la qualità dell'incisione della deformazione che avete dato alla superficie dei mattoni e dunque come ha contribuito alla qualità della colorazione ora col pennello cerchiamo di accompagnare la malta in modo che si distribuisca tra le fughe facendo cadere l'eccesso sul foglio grande che abbiamo messo sotto al diorama è naturale che per una questione di economia di risparmio sarebbe meglio usare carta da giornale io però ho preferito mettere un foglio bianco questo è infatti è un foglio destinato alla stampa da plotter che certamente costa un po di più di un foglio di giornale però è utile per il video perché essendo bianco permette proprio di mettere in risalto la quantità di materiale che può essere recuperato è proprio per voi ecco per farvi vedere l'utilità di avere sempre degli accorgimenti mirati al risparmio e a non sprecare assolutamente niente anche perché spesso si lavora proprio con materiali di recupero completiamo il livellamento della parte alta del muro in questa zona scrostata cercando di lasciare come vedete proprio quelle particelle un po più grossolane della malta proprio quei sassolini un po più un po più grandi un po più visibili che andranno sicuramente ad essere un valore aggiunto molto prezioso proprio per valorizzare la qualità del lavoro finito il pennello grande aiuta sempre tantissimo a recuperare il materiale in eccesso e vedete infatti quanto ne cade sul foglio sottostante nello stesso tempo andate anche a distribuire un po di malta sui muri che non guasta assolutamente e anzi contribuisce proprio al realismo dell'intonaco e quindi se anche vi dovesse scappare un po di acqua o di acqua più cola vinilica quando spruzzate quando trattate il muro ecco questo andrà proprio a inumidire anche le strisciate che avete fatto e il muro ne trarrà sicuramente giovamento ora finalmente andiamo a inumidire tutte le zone che abbiamo trattato finalmente possiamo bagnare in modo completo e omogeneo il muro cercando di non trascurare niente non serve abbondare basta inumidire tutto in modo omogeneo e automaticamente quello che spruzzate andrà già a permeare proprio a inumidire in profondità la malta che avete appoggiato nelle fughe a questo punto si cerca di pulire sempre con la massima accuratezza quale cose sono andate sicuramente meglio rispetto al muretto centrale infatti il lavoro è stato eseguito in modo più pulito e sono riuscito ad asportare meglio anche la polvere in eccesso e così sicuramente questi mattoni alla fine saranno meno chiari quando l'acqua si sarà completamente asciugata comunque la pulizia deve essere sempre accurata vedete infatti proprio quanta di questa malta fine tende ad accumularsi formando delle piccole le zone chiare sulla superficie ebbene questo è tutto il segno del materiale che avete lasciato ecco qui ho cercato di fare zoom il più possibile per inquadrare il dettaglio in modo proprio da farvi vedere ecco quello che riesco a rimuovere col pennello e quello che rimane ovviamente sono delle piccole impercettibili quasi ombreggiature grigie però col tempo il vostro occhio si affinerà su questi particolari e la vostra lavorazione logicamente ne uscirà sempre più perfetta qui sulla parete laterale è ovviamente facile far cadere molta della malta oltre il il bordo che come dicevamo prima è abbastanza arrotondato e quindi attenzione anche all'inclinazione che tenete della parete in modo da farvi aiutare proprio dal peso stesso della malta a far sì che questa rimanga all'interno delle fughe e quella che cade giù sia semplicemente perché la spingete voi col pennello è bellissima questa malta proprio perché vedete com'è grossolana quindi alterna parti fini a parti più grossolane e questo sarà sicuramente un vantaggio importantissimo per l'effetto finale della lavorazione ancora una volta col pennello asciutto o leggermente inumidito andiamo a rimuovere ancora quel materiale che non siamo riusciti ad asportare col pennellino ma soprattutto andiamo a migliorare ulteriormente la pulizia della superficie anche perché questo pennello ha delle setole molto fitte morbide che riescono a spostare certamente una maggior quantità di quella malta finissima che è difficile rimuovere proprio perché si insinua anche nelle più piccole porosità del materiale anche quelle che al tatto quasi non si sentono il lavoro deve procedere fino a quando il vostro occhio non è soddisfatto qua non ci sono regole precise se vi piace avere delle malte distribuite in modo più scarso cioè da avere le fughe più profonde in modo da far risaltare i mattoni bene altrimenti potete anche fare proprio l'esatto contrario cioè avere i mattoni quasi completamente immersi nella malta ecco a seconda del vostro gusto e dell'effetto che volete ottenere oppure se avete un preciso muro di riferimento che vi siete fotografati e volete imitare ecco ovviamente è chiaro che la lavorazione si adatterà di conseguenza qui ho spruzzato sempre in modo omogeneo cercando di non abbondare troppo e col pennello dunque approfittiamo di questa bella inumidità della superficie proprio per rimuovere il più possibile il materiale cercando di limitare la quantità di malta residua questa è la lavorazione potremmo dire più acrobatica del nostro diorama proprio perché andiamo a riempire le fughe dell'arcata centrale e così siccome stiamo lavorando proprio nella parte interna questa parte sarà dunque affacciata sull'interno dell'arcata anche nella zona superiore andremo a mettere la malta dappertutto quindi anche in quella parte sospesa affacciata sul terreno e questo fa chiaramente capire la bontà di questo procedimento che utilizziamo e vedrete che la malta non cadrà giù neanche se vi dovesse capitare di sbattere il diorama su un tavolo ovviamente è un discorso relativo senza essere troppo violenti però vedrete che questa lavorazione sarà in grado di impregnare la malta in modo sufficiente da garantire proprio una particolare resistenza dell'amalgama e qui vedete infatti che ho capovolto ulteriormente il diorama che ormai è sotto sopra proprio per favorire il riempimento delle fughe che saranno nella posizione sospesa quindi qua proprio il peso che hanno non le aiuterà assolutamente a stare appoggiate alle fessure riempiamo sempre con la massima cura col pennello facciamo una piccola livellata stando veramente molto attenti a non far precipitare tutto il materiale fuori e poi ancora una volta procederemo a spruzzare tutto quanto ecco la nebulizzazione che procede una bella innaffiata qui sicuramente è importante innaffiare bene proprio perché qui la malta deve essere sicuramente la più persistente ancora una volta puliamo diciamo che in questo caso la pulizia è relativa a cioè un'importanza minore proprio perché stiamo trattando dei mattoni che già hanno una colorazione chiara però siccome gli abbiamo messo una leggera sfumata di colore beige o marrone proprio per dare quella tinta un po più calda dovuta alla sabbia del deserto ecco ci teniamo a non perdere troppo questo effetto cercando cioè di limitare il più possibile la copertura da parte della della malta residua ecco allora finalmente il nostro diorama completato completamente inumidito attendiamo diciamo almeno mezza giornata per l'asciugatura ma direi anche una giornata completa ora vediamo il muretto come si sta asciugando e soprattutto come emerga la parte chiara del residuo della malta più fine e qui andiamo a fare un po di riempimento mi è scappata purtroppo una porosità veramente grossolana sulla scala che ho preferito così riempire livellando gli scalini in modo che non si vedesse questa porosità questa cavità troppo accentuata sarebbe stato un po eccessiva e allora meglio riempirla con con la malta che tra l'altro si amalgama perfettamente con la scalinata e va così a valorizzare nel complesso tutto l'impatto visivo del manufatto e anche qui andiamo ad asciugare perché abbiamo spruzzato molto al di fuori dei ovviamente della zona che abbiamo riempito e possiamo così vedere il lavoro finito vediamo ora una fase di lavorazione non sempre necessaria nel nostro caso per esempio l'oggetto che dobbiamo trattare è diventato molto chiaro in alcune zone proprio perché non siamo riusciti a eliminare completamente il residuo della malta o comunque a escluderlo in una buona percentuale e così abbiamo i mattoni che praticamente sono stati velati completamente dal residuo secco della malta e questo richiede un lavoro di ripresa proprio per recuperare il colore senza tuttavia buttare via del tutto quello che è stato fatto perché un po ancora risalta il colore di fondo ma poi la malta con la propria componente grigia e la leggerissima ruvidità che ha lasciato sulla superficie dà un contributo importante al realismo dell'oggetto quindi questa è una fase che potrebbe anche non essere necessaria se per esempio non soltanto i mattoni sono sufficientemente puliti ma se a vostro giudizio quello che vedete vi piace e semplicemente abbiamo raggiunto l'aspetto del mattone della pietra che voi volevate ottenere perché per esempio potrebbe anche essere che voi andavate proprio alla ricerca di qualcosa che avesse poco la componente del marrone e molto di più invece quella del grigio se ad esempio state ricostruendo dei mattoni di di sasso come per esempio nell'edilizia della val d'aosta giusto per fare un esempio dei dei fabbricati con un determinato stile e determinate le materie prime di riferimento comunque nel passaggio che ora stiamo guardando io ho un problema che è quello di cercare un compromesso fra un colore che non sia troppo diluito perché devo necessariamente coprire quelle zone in cui le fughe il nero delle fughe si vede ancora troppo evidente ma nello stesso tempo non deve essere nemmeno troppo denso perché vorrei che quando poi il colore è asciutto dia ugualmente un po di risalto alla superficie di fondo su cui l'ho applicato perché non voglio assolutamente sprecare quello che è stato fatto fino adesso e così in questa prima fase sulla tavolozza io sto miscelando i colori sto facendo delle prove con vari gradi di diluizione in modo da testare proprio direttamente sulla superficie dei mattoni il risultato finale di questa applicazione faccio intervenire un po di acqua per vedere come si comportano ma diciamo che questi primi tentativi non sono completamente soddisfacenti per questo insisto soprattutto su quelle parti che a mio giudizio sono rimaste troppo chiare sono diventate eccessivamente grigie e quindi non ho problema ad applicare un colore abbastanza coprente sebbene sia ancora sbagliata la tonalità cromatica finale perché ancora non ho raggiunto l'effetto che vorrei però intanto appoggiare una certa gradazione di marrone misto a grigio o anche un pochino a persino a del bianco ecco per avere un migliore effetto coprente di quello che è stato ottenuto può già essere utile però vediamo infatti come in questo punto preciso io in un certo senso riparta da zero perciò ho pulito completamente il pennello sciacquandoli in acqua e sulla tavolozza ho aggiunto del grigio che diventa così una componente imprescindibile da qui in avanti per i successivi ritocchi di colore ripasso allora le zone che ho appena trattato senza neanche attendere che il colore sia completamente asciutto perché comunque va bene quello che ho appoggiato e in pratica lo diluisco utilizzo cioè proprio il muretto come una ulteriore tavolozza per completare la miscela di colore vedete come sulla tavolozza io vada a cercare altri colori quindi un po insisto sul marroncino per cercare sempre una vena calda del colore e poi vado a sporcare ulteriormente il pennello di grigio per aumentare proprio la percentuale di questo colore in modo da avere una una tinta più chiara ecco più in sintonia con l'effetto della malta chiara mista al al marrone ecco ci sono alcuni punti in cui proprio il nero veramente risalta troppo non dobbiamo coprirlo proprio completamente perché come già detto più volte nelle puntate passate il nero ha un ruolo nella resa finale proprio dell'effetto naturale della pietra perché oltre ad aiutare nel ottenere la tridimensionalità del muro serve proprio anche a ricreare quelle zone più nascoste in cui si condensano le sporcizie le muffette i depositi organici che col tempo diventano proprio neri dunque non è un colore fuori posto assolutamente diciamo che diventa antiestetico quando è troppo preponderante ecco quando quando comincia a diventare un po eccessivo e disturba l'armonia dell'insieme qui continuo a sperimentare stavolta il colore è veramente coprente vedete in questo primo piano la pastosità del colore però attenzione che quando poi sarà asciutto la tonalità complessiva cambierà ulteriormente quindi ci sarà una leggera schiarita a favore tra l'altro del colore di fondo e quindi un pochino risalterà quello che c'è sotto però diciamo che qui abbiamo a che fare proprio con un muro in cui il residuo di malta è purtroppo è stato eccessivo e così si è sprecata ecco una buona parte di quella ricercatezza che avevamo messo nel trovare il giusto colore di fondo da applicare sui mattoni però vedete che questa omogeneità della malta non è uguale su tutte le facce del muretto perché altre zone hanno conservato invece proprio il colore che abbiamo applicato noi e così sia una resa già quasi ideale ecco siamo già quasi arrivati al risultato finale però a questo punto dato che siamo partiti a ritoccare una faccia cerchiamo di fare in modo che tutto il muretto appaia omogeneo anche perché deve risultare come una catasta come un mucchio di pietre tutte più o meno simili la nostra tavolozza vedete che si miscela sempre di più però mantengo sempre distinti i colori più chiari da quelli più scuri in modo da poter ogni tanto intingere la punta del pennello dove mi serve proprio quella vena un po più calda un po più accesa oppure quella vena tendente più al nero proprio per differenziare anche i mattoni fra loro e vedete che applicando un colore con questo sistema cioè utilizzando proprio l'acrilico schietto o appena appena diluito e soprattutto sporcando sempre leggermente la punta del pennello il risultato è che in tempo reale proprio col passare dei minuti il colore già inizia ad asciugarsi e a ritirarsi in modo da lasciare intravedere il risultato finale e così avete un'idea di quanto lavorare ancora di quanto intervenire ancora sulle pietre ed eventualmente se sia il caso di lasciarle proprio asciugare perché se vedete che il colore quando lo ripassate tende a impastarsi troppo allora potreste anche rischiare di continuare all'infinito a lavorarci sopra senza raggiungere la gradazione che volete invece è sufficiente lasciar trascorrere quei 20 minuti quella mezz'oretta che il colore si addensi abbastanza da non essere più impastato quando lo lo passate di nuovo col pennello e così trovate le sfumature che volete l'importante quando si passano i mattoni è non rivestirli proprio proprio in modo completo e omogeneo se si conservano cioè delle sfumature diverse all'interno del mattone quindi conservando le zone più chiare più scure più calde più fredde ovviamente si preserva proprio quell'impressione naturale della pietra vedete che la grossolanità delle fughe e l'importanza del rilievo dei mattoni permettono di fare dei ritocchi molto precisi a quelle zone in cui il nero risalta troppo senza neanche dover utilizzare un pennello di quelli proprio a punta fine quindi come vedete il lavoro risulta lo stesso abbastanza prezioso e preciso senza neppure dover utilizzare strumenti di precisione ecco questa pietra proprio è stata completamente coperta dalla malta e anche le zone vicine sono diventate proprio un blocco unico di cemento e qua purtroppo mi è scappata un po la mano e allora qui i mattoni devono essere proprio ripresi ripitturati ecco vedete proprio un muretto che è riuscito bene solamente in alcune zone mentre in altre dobbiamo correggere gli errori però è la prova di come non ci sia niente di irreparabile quindi non buttate via nulla del vostro lavoro perché vedete che potete sempre tornarci sopra fino al raggiungimento del risultato desiderato questa inquadratura in primo piano è molto efficace proprio per vedere come inizia a determinarsi proprio la fusione tra i colori che noi appoggiamo e la malta asciutta davvero un effetto molto realistico ecco l'uso della malta è indubbiamente un un ingrediente che dà una una nota in più veramente fa compiere proprio quel salto di qualità al vostro lavoro anche se non è realizzato con particolare maestria come come l'esempio di questo muretto che vi faccio vedere è veramente molto molto essenziale nella sua tecnica di esecuzione ecco è molto molto semplice però vedete che lavorandolo con un po di accuratezza con un po di pazienza si riescono a ottenere quelle sfumature e quelle gradazioni di colore dei mattoni che si fondono benissimo con il grigio chiaro della malta e creando quel bel insieme tutto così imperfetto ma estremamente naturale molto veritiero e ormai il muro ormai comincia veramente ad arrivare alla definizione finale diamo ancora gli ultimi ritocchi qui come sempre si lascia al vostro giudizio decidere quando il lavoro è finito ma direi che ormai ci siamo ultimi tocchi ancora e il muretto deve solo essere lasciato ad asciugare ecco un altro mattone che è stato fatto emergere dalla malta e chiaramente il fatto che i mattoni siano in risalto in forte rilievo non richiede neanche una particolare precisione nel definirne i contorni vedete che basta passare il pennello in modo leggero e automaticamente il colore si appoggerà soltanto sul mattone e poi non diamo troppo peso all'inquadratura in primo piano perché ovviamente l'impressione che conta sarà quella di una vista da lontano cioè quando l'oggetto sarà percepito nel suo complesso nella sua armonia generale di forme colori luci e ombre e poi ovviamente sarà importante anche vederlo da vicino ma è soprattutto la sua percezione complessiva quella che dà l'effetto maggiore qui per esempio ho l'applicazione di una maggior vena di grigio c'è una maggior preponderanza di grigio perché sto cercando di mettere dei mattoni un po più chiari in quella zona dove avevo notato una omogeneità del marrone un pochino eccessiva per cui mi piace che i mattoni sembrino un pochino diversi tra loro ecco come se la composizione del muretto fosse un po più eterogenea quanto basta vedete anche qui come il rilievo sia preziosissimo proprio per definire il contorno del mattone e così riuscite a tirar fuori tutte le superfici che volete facendole emergere dalla dalla base di malta il lavoro continua e il muretto è sempre più definito la parte superiore è probabilmente la faccia meglio riuscita di tutte quella che si è pulita meglio dalla malta durante la fase successiva all'applicazione della nebulizzazione di acqua e colla vinilica eccolo qui finito passiamo ora alla zona inferiore della scala quella vicino all'arcata centrale è quella dove il muretto l'effetto dei mattoni liberati dall'intonaco è rimasto un po troppo sporco di malta ecco i mattoni sono un po troppo chiari non risaltano bene quindi non valorizzano quell'effetto di muro scrostato e così questa è l'unica zona in cui ho dovuto veramente fare un intervento successivo di ripresa del colore dei mattoni perciò sfruttando sempre la tavolozza del muretto che è perfetta vedete vado ad attingere in varie zone per combinare i colori in modo da ottenere la vena cromatica che sto cercando in modo da farli risaltare nelle altre zone invece del muro i mattoni scrostati sono venuti più puliti quindi sono più scuri e risaltano a sufficienza dal muro almeno a mio giudizio per cui la velatura che è rimasta della della malta anzi è proprio una componente aggiuntiva che migliora il colore applicato sui mattoni e quindi appaiono già perfettamente realistici almeno secondo il mio gusto e la mia valutazione in questa parte del muro invece serve un intervento in più proprio per fare in modo che i mattoni emergano con maggior realismo ecco sono contento di essere riuscito a fare questa inquadratura a fuoco e in primo piano durante la lavorazione proprio per far capire che anche in una vista da vicino che non nessuno riuscirà mai a fare il realismo è stato raggiunto al termine delle lavorazioni posizioniamo gli oggetti simulando l'assemblaggio finale per valore l'effetto complessivo delle varie tecniche utilizzate finora le pietre del muretto appaiono tutto sommato omogenee con leggere differenze cromatiche fra loro risaltano alcune sfumature chiare provocate dalla malta ben miscelate con i ritocchi effettuati con i colori acrilici sia nel muretto sia nella vista complessiva il riempimento delle fughe appare sicuramente come un valore aggiunto per potenziare il realismo ma soprattutto funziona come un efficace armonizzatore di tutti gli elementi non vedendosi più il tratto marcato delle linee nere si continua ancora a percepire le fughe tramite il gioco di luci e ombre provocato dal rilievo dei mattoni mentre il colore chiaro della malta raccorda fra loro le tonalità dei mattoni con quelle dell'intonaco in un gioco complessivo di morbide sfumature visto che meraviglia l'applicazione della malta secondo me è qualcosa di eccezionale cioè poter riempire le fughe tra i vari mattoni può dare un una nota veramente preziosa al vostro lavoro aggiungendo un impatto realistico sorprendente e credo che ne sarete compiaciuti anche voi anzi probabilmente ci prenderete gusto e non vedrete l'ora di creare una nuova applicazione per riprodurre nuovi muri nuovi mattoni con effetto sempre più realistico anche perché ricordatevi che più andate avanti e più acquisirete confidenza con questi materiali per cui capirete come si comportano e allora la vostra esperienza la vostra maestria vi permetterà di ottenere gli effetti sempre più vari e diversi e allora io mi auguro che anche questa puntata vi sia stata utile soprattutto che vi abbia fornito una indicazione preziosa e dunque il nostro presepio sta prendendo vita e ora che abbiamo applicato la malta finale quindi abbiamo riempito anche tutto quello che serve della muratura non resta che passare alla veramente alla fase finale in cui applicheremo tutti gli strumenti di rifinitura quindi tutti quegli accessori che serviranno a completare il paesaggio quindi il suolo e tutte quelle quelle finiture che daranno proprio vita alla scena perciò elementi naturali elementi di vegetazione pietrisco insomma tutto quello che mi può venire in mente anche perché vi ricordo una cosa che questo è un progetto che non è stato prima definito sulla carta quindi non c'è un progetto vero e proprio di base ma tutto nasce anche un po con l'improvvisazione perciò non è neanche escluso che qualcosa possa cambiare strada facendo oppure che le cose rimangano così perché sono già state impostate correttamente e quindi voi state assistendo non solo a delle lezioni che dimostrano quasi in tempo reale il processo di realizzazione così che vi potete fare anche un'idea delle tempistiche che vi serviranno ma assistete anche proprio a un qualche dettaglio qualche sfumatura del mio processo creativo per cui vedete come l'idea prende forma e come si evolve man mano che le operazioni si avvicinano verso la fine avanti allora dai che natale si avvicina e il nostro presepio deve essere completato grazie per avermi seguito fin qui ciao a tutti grazie a tutti